Le immagini che vedete arrivano dallo stadio Mazzella di Fondobosso e sono state girate questa mattina giovedì 21 novembre. Detto per inciso, sono più rare del passaggio della cometa di Alley perché ritraggono una serie di operai al lavoro nell'impianto sportivo ischitano. Roba che non si vedeva da tempo in memore o forse che addirittura non si era mai vista da quello che avrebbe dovuto essere l'inizio dei lavori con i quali si sarebbe provveduto tra l'altro alla posa dell'erba sintetica sul rettangolo di gioco. Lavori che, giova ricordarlo, dovevano terminare lo scorso 31 ottobre ma finalmente sembra che il pressing dell'amministrazione comunale, unita alla minaccia di rescissione contrattuale ed accompagnata a sanzioni quotidiane per ogni giorno di ritardo sulla consegna, abbiano svegliato la ditta esecutrice. Come tra l'altro promesso e garantito a più riprese negli ultimi giorni dal presidente del consiglio comunale Gianluca Trani, si è arrivati finalmente a stilare un cronoprogramma dei lavori, del cui grafico siamo venuti in possesso. Cronoprogramma stabilito di concerto proprio tra amministrazione e direttore dei lavori, l'attuale vice sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso. Le opere dovranno terminare. Non scendiamo nei dettagli per non tediare i nostri telespettatori entro il 20 dicembre. Insomma potrebbe arrivare un bel regalo di Natale, anche se definirlo così dopo una lunga attesa oggettivamente stride un po'. Vedremo se stavolta i tempi saranno rispettati. Una cosa è certa, adesso non si può più sbagliare.